Musica Si è conclusa la settimana di full immersion nella sede saviglianese del CEMI, centro europeo di modellismo industriale, dove noi, 16 alunni del liceo artistico Solari Bertolini Saluzzo, ci siamo immedesimati in una realtà nuova. Si è trattato di un'esperienza formativa e divertente, con obiettivo quello di realizzare un prototipo di reshow elettrico e all'avanguardia. L'iniziativa, coordinata dalla nostra insegnante Marilena Drago e finanziata nell'ambito del progetto PON, prevedeva di raggiungere l'obiettivo seguendo l'ABC della progettazione. Siamo stati seguiti, aiutati e indirizzati da un team di esperti con a capo Costanzo Rinauto, nostro tutore esterno. Siamo stati seguiti, aiutati e aiutati. In maniera ortogonale, ho fatto così perché potete scorre questi lavori, Siete così e tratte in questo modo. Grazie a tutti. 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 Costruttivo. È stata una bella esperienza, molto intensa. Veramente pazzesco. Novità. Instruttivo. Novità. 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 Novità.